Dai dischi rari con musica di ogni genere, sia vinili che CD, ai fumetti con pezzi originali e serie complete e poi accessori ed abbigliamento delle epoche passate, tornate adesso di gran voga tra i più giovani. All'Arezzo Fieri Congressi è così tornata la manifestazione dedicata al collezionismo, a portare avanti la tradizione iniziata ormai vent'anni fa l'Associazione Culturale Fumetti ed Intorni di Firenze. Sappiamo che Arezzo è un feudo di fumetti da sempre, hanno una tradizione storica per quello che riguarda fumetti, tant'è vero che abbiamo avuto per questi due giorni Fabio Civitelli, disegnatore di Tex della casa editrice Bonelli e Riccardo Nunziati. Presente anche la giovane disegnatrice aretina Giulia Pulerà che ha presentato il suo ultimo lavoro, La Montagna. È la trasposizione a fumetti di una leggenda giapponese e era una leggenda che parla della pratica del Oba Suteyama che consisteva nei periodi di carestia, soprattutto nei villaggi remoti, di lasciare i propri cari, quelli più anziani, al loro destino nella montagna. Però in questa storia, che parla di questa leggenda, questo ragazzo decide di non fare questa pratica e allora prende una decisione molto importante che cambierà non solo la sua vita ma scatenerà tutta una serie di eventi che cambieranno il suo destino e quello delle persone da cui è circondato.